Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti presenterò una splendida soluzione. Parliamo di un quadrilocale completamente ristrutturato all'interno di questo magnifico parco in fase di ristrutturazione. Quindi ti ritroverai ad avere una soluzione già ristrutturata all'interno recentemente e il parco in fase di ristrutturazione. Parliamo in effetti del parco quadrifoglio. Andiamo a vedere l'interno del parco, seguimi. Come vedi il parco ha in effetti ingresso con subito alla sua sinistra portierato che serve a tutela di quello che è giustamente la privacy di questo magnifico condominio. Dotato di più scale, il parco si suddivide in effetti su quattro lati. L'immobile che adesso vedremo è un secondo piano, una cosa comoda e carina di questo spazio è che i tuoi figli potranno giocare e divertirsi con anche una piccola aria in effetti dove potrai goderti quelle belle serate o perché non goderti quel pomeriggio di aria fresca seduto su una panchina a leggere un libro. Andiamo a vedere l'interno della casa, seguimi. Ciao e benvenuto all'interno della soluzione. Come puoi vedere la soluzione accoglie l'ingresso in questo piccolo disimpegno caratterizzato in effetti dalla controsoffitta con luci led e questo bello ristrello in legno che va a isolare in modo parziale la zona che adesso vediamo, in effetti il salone cucina. Seguimi. Il salone cucina in effetti è una zona molto ampia come puoi notare. Da questa parte il living con comodo tv divano ad L e da quest'altra parte la zona proprio cucina dove in effetti ritroviamo una cucina ad isola con piano cottura e lavabo. Su questo piano cottura in effetti potrai o servirlo per lavoro o fare colazione come quest'altra parte proprio ipotizzata a questo tipo di servizio con quattro sgabelli dove potrai fare colazione tu e la tua famiglia. Sulla mia sinistra qui in effetti invece abbiamo un tavolo attualmente per quattro persone allungabile. La cosa più bella a dare servizio a luce a questa zona c'è una comodissima finestra e l'accesso al primo balcone della soluzione della zona giorno che è dotato anche di cucina esterna. Come puoi vedere anche la cucina qui salone cucina è super caratterizzato da questi dettagli con faretti led e questa magnifica controsoffitta che va a dare una caratteristica unica e bellissima a questa magnifica soluzione. Vediamo il resto seguimi A seguire qui nella zona giorno abbiamo in effetti il bagno di servizio. Vediamolo il bagno di servizio se vogliamo definirlo così è un ambiente molto ampio e anche questo molto caratteristico dotato di faretti controsoffitta e va a caratterizzare adesso ti mostro una cosa con la luce blu in effetti in proiezione direttamente sulla vasca idromassaggio guarda adesso ti mostro una cosa danno risalto in effetti con questa luce blu le due mattonelle verticali che danno un effetto molto caratteristico e particolare alla soluzione tornando in effetti alla soluzione il bagno è dotato anche di lavanderia dove potrai riporre lavatrice e asciugatrice a servizio di luce e uscita fuori al balcone abbiamo una finestra e l'uscita del balcone è qui. Tornando in effetti nella zona giorno adesso è il momento di accedere a quest'altro disimpegno dove in effetti troviamo tutta la zona notte che si sviluppa con una prima camera qui alla mia sinistra che adesso vediamo la camera da letto la camera da letto anch'essa è dotato d'accesso al balcone ed è caratterizzato da un'altra particolarità che dà luce e bellezza e aria a questa soluzione una magnifica finestra come vedi anche quest'ambiente è dotato di controsoffitte luci led blu e luci led bianche che danno luminosità a questa zona e modernità. Adesso ti mostro un'altra nota particolare della soluzione il secondo bagno che serve questa zona con box doccia e non basca che ha una particolarità viene a vederla. Guarda bene questo box doccia adesso spengo le luci a led bianche guarda che risalto a questa mattonella all'interno tutto studiato per rendere questo appartamento unico nel suo genere. Vediamo il resto dell'abitazione qui a seguire alla mia destra destro è il momento di vedere la prima cameretta dotata di finestra un ambiente unico e dall'altra parte caratterizzato attualmente da una sorta di rivestimento coreografico come vedi in natura. A seguire in effetti adesso accediamo all'ultimo ambiente coloratissimo di verde quindi ti dà senso di aria e natura infatti il retro del letto immagina che rappresenta questa splendida cascata e ti dà modo di rilassarti ed è dotato in effetti anche questo di finestra che illumina questa camera nonostante una bellissima controsoffitta come tutto il resto dell'immobile. Adesso è il momento di passare a quelli che sono i dettagli. Quindi adesso il momento dei dettagli in effetti siamo ad Arzano e precisamente in biatellana del parco quadrifoglio come abbiamo visto all'ingresso del parco in fase di ristrutturazione quindi ti ritroverai una soluzione completamente ristrutturata all'interno dotata di tutti i comfort e super moderna. Parco esterno ristrutturato e dall'altra parte soprattutto in posizione super strategica. In effetti ti ritrovi a giusto due minuti dall'asse mediano e dall'altra parte così facendo poi da arrivare non solo all'asse mediano in due minuti massimo sette minuti sei all'autostrada. Se vuoi sapere di più su questa soluzione che in effetti parliamo di un immobile ubicato ad un secondo piano con ascensore di 138 metri quadri interni ingresso in salone cucina circa 40 metri quadri bagno lavanderia che serve la zona giorno disimpegno dove è collocata in effetti tutta la zona notte con ben tre camere da letto non camerette tre camere da letto e bagno super caratterizzato dopo il filo diffusione in effetti luce blu che dà capillarità e particolarità a questa magnifica soluzione. Se vuoi fare invidia ad amici e parenti acquista questo immobile contattaci al numero in descrizione o lascio un bel messaggio. Ciao! Al prossimo episodio Al prossimo episodio